Achille! È plausibile. Sto preparando un ritmo a bande ruota. Sto ancora ragionando sul fatto se io vien da Damani a qua o a Damani a qua. Un favorito. Scusa, lei come ha detto che si chiama? Buchenwaldskaya. Se qualcuno di voi stesse avanzando, lontanamente, di non venire a matrimonio, lo porto con carri morti. È plausibile? No, no. Plausibile. La felicità è una spigola al forno con un contorno. La felicità è guardarti negli occhi mangiando gli gnocchi. Questa è proprio filosofia politica. Per cosa del genere ci devono dare prime pagine del giornale. Madonna, mamma mia, bella, ma che è stata? Ho segnato un'altra volta che era freddo e buon gusto. Mamma mia. No, non, non. La felicità è solo una zona basata.